un saluto da pep 2377 e da miserotto eccoci qua ragazzi oggi vi portiamo l'album calciatori annata 2005 2006 e si avete capito bene è proprio quella di calcioppoli illeciti compiuti tra dirigenti sportivi e esponenti della classe arbitrale del juventus juventus arrivata a 91 punti prima in classifica seguita dall'inter a 76 roma 69 milano 58 ma la juve purtroppo con la storia di calcioppoli è dovuto a retrocedere in serie b e in automatico la seconda classificata in questo caso l'inter che è arrivata seconda a 76 punti si è giudicata lo scudetto come detto la juventus retrocessa in serie b accompagnata da treviso e lecce ma ragazzi prima di iniziare con le nostre 780 figurine che noi andremo attaccare solo per voi vi ricordiamo di lasciare un bellissimo pollicione in su di iscrivervi al canale di condividere il video con tutti i vostri amici anche di attivare la campanellina e ora ragazzi andiamo attaccare tutte queste bellissime figurine bene raga eccoci qua abbiamo attaccato tutte le figurine come detto precedentemente ora andiamo a sfogliare il nostro bellissimo album ricordiamo dell'annata 2005 2006 famoso per calcioppoli figurine tutte attaccate andiamo a vedere un po come si presentava l'album nell'annata 2005 2006 qua abbiamo il calendario di tutte le partite l'ascoli che in quella annata era in serie a dove abbiamo scritto questo vedete sotto stampate tutti i nomi di giocatori con le annate la società di calcio e un po di statistiche di ogni singolo giocatore mancano gli aggiornamenti non so se già ve l'ho detto dovranno arrivare a breve abbiamo cagliari allenato da nedo sonetti il chievo verona giuseppe pillone allenatore trascinata da sergio pellissi e l'empoli mario somma era allenatore ricordiamo in attacco tavano ce lo ricordiamo benissimo la fiorentina cesare prendelli allenatore in quell'annata luca toni in attacco giampaolo pazzini con i capelli lunghi abbiamo l'inter allenata da roberto mancini abbiamo fior di giocatori qua campioni zanetti sempre presente adriano re cova ragazzi one sebastian veron luiz figo obo obo martins famoso per le sue capriole stankovic cambiasso con i capelli la juventus fabio capello gian luigi buffon un giovanissimo chiellini fabio cannavaro che poi sarà campione nel mondo nel 2006 abbiamo del piero christian abbiati che era la juventus in quest'annata pavel nedved mutu treseghè e ragazzi degli rossi allenatore della lazio qua abbiamo angelo peruzzi come portiere di canio simone inzaghi coran pande tare che ora è dirigente della stessa lazio abbiamo lecce di un silvio baldini con un testone riccio cucinice che qua era ancora a lecce poi passerà la roma dopo di che la juventus donadoni allenatore del livorno portolo mutti del messina squadra siciliana in cui l'annata era in serie a trascinata da zampagna ottimo attaccante molto forte fisicamente poi abbiamo un minar ragazzi di carlo ancelotti guardate che giocatore cafù costa curta maldini nesta stam tida in porta filippo inzaghi cacca gilardino gilardino biondo non sembra anche lui bobo vieri scevchenko sedor poi abbiamo vedete una serie di allenatori ormai oggi fanno allenatori pirlo gattuso sedor finzaghi zelico calac portiere scevchenko che ora allena genoa anche lui allenatore il palermo di luigi del neri dove c'era fabio grosso il parma di mario beretta fernando couto ricordiamo paolo cannavaro marco del vecchio in attacco con corradi poi abbiamo la regina di walter mazzarri alessandro lucarelli come difensore ci ricordiamo nicola moroso la roma di lucianone spalletti mexess panucci kivu e poi passerà all'inter un giovanissimo dei rossi cassano montella la sampdoria di novellino dove c'era flachi bonazzoli di siena di decanio dove c'era bogdani me lo ricordo benissimo bogdani marazzina marazzina attaccante cavazin del treviso raga il treviso in seriani anche me lo ricordavo io dove avevamo un giovanissimo samir andanovic l'udinese di serse cosmi c'era candela in difesa di michele barreto totò di natale con jacquinta mamma mia che attacco che aveva qua qua abbiamo un po' di albedor un po' di storia ora parte la serie b albinoleffe arezzo ricordo completo e attaccate benissimo le figurine raga perché sapete che siamo molto molto precisi l'Atalanta Lavellino Bari Bologna Brescia Catania Catanzaro Cesena Cremonese Crotone Mantova Modena Pescara Piacenza Rimini Ternana Torino era in serie B Triestina Verona Vicenza qua abbiamo il calendario della serie C1 girone A tutte le squadre il Genova raga guardate dove era il Genova mamma mia Novara il Pavia la nostra città quando contava ancora qualcosa la società perché ormai oggi siamo messi molto male dopo l'acquisto dei cinesi che poi sono scappati la società non si è più rialzata serie C1 girone B calendario e tutte le squadre guardate chi c'è qua raga Napoli raga il Napoli in serie C ve lo ricordate mamma mia serie C girone A C2 girone A con le squadre C2 girone B molto bello questo album mi piace tantissimo calcio femminile di serie A il calendario con tutte le squadre Agliana Atalanta Bardolino Fiamma Monza Milano Monti del Matese Oristano Reggiana Sinigaglia Tavagnacco Torino e Torres squadra sarda Azzurri nel mito vediamo un Angelo Peruzzi Flavio Roma Gigi Buffoni portieri poi abbiamo difensori Barzagli Bonera Cannavaro Chiellini vedete Diana Nesta Materazzi continuiamo con Oddo Zaccardo Zambrotta Ambrosini Camoranesi De Rossi che centrocampo raga De Rossi Gattuso Pirlo Montolivo Totti Cassano Iacquinta Del Piero Inzaghi Tavano Toni e Cristian Vieri che dire ragazzi questa è stata un'annata di Calcioppoli come abbiamo detto sul campo aveva vinto la Juventus ma con quello che è successo lo scudetto è stato assegnato all'Inter ragazzi da pep2377 è tutto vi ricordo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina delle notifiche per essere aggiornati a tutti i video che pubblicheremo in futuro e lasciate un bellissimo pollicione in su ciao ragazzi